Allora, fratello gemello, pensaci di te, spogati nei dovuti modi, io ora devo guidare, sai che all'autista, anzi all'autiere, forse è meglio che mi faccio il giacchietto, così magari vedo il pettolare, per differenziarci un pochino, sai se no penso che siamo la stessa persona, intanto quando ha voglia mi richiama, quando ha bisogno, questo babbano qui mi richiama perché non si vuole esporre, mi tocca espormi a me, vai, ok, ci penso io, vai, va tranquillo, te pensa a guidare che all'autiere non si dà manoia, giusto, hai ragione, allora ci penso io, sono libero di sfogarmi, allora ragazzi, io spero che sia, lui ha fatto già la sua parte per fare ammenda dei suoi, dei vostri, egli, di peccati, io ora fumo, io penso, vai, speriamo che non sia vero niente, perché? Perché se davvero dovesse rinnovare quel visionario con le sue idee innovative, altri tre anni, mamma mia ragazzi, cioè, diamoci l'anima in pace, non sarà neanche più, non farà bene neanche alla salute, penso, incazzarci sì perché non ne varrebbe più la pena, nel senso che se non gli importa a questa società di taccagni, tirchi, non gli importa di fare il salto di qualità, ma si vede, basta stare lì, terzi, entrare in Champions League, così avere le entrate economiche, poi magari in Champions League, se ci riusciamo a passare il girone, sopravvivere così, insomma, il nome rimane sempre nel ciclone mediatico, nelle competizioni, però poi alla fine stringi e stringi, vuol dire che ti accontenti di rimanere a galla e fare stagioni anonime. Stai andando bene, tutto lì, voi, voi, scusami, voi e voi, tutti voi sarete artetici, sarete complici, mi ha detto ieri sera, della nostra rovina, voi che siete state a guardare e che non avete un minimo d'obiettività, che invece rifiandano i nostri colori, mi sembrate i coppi giuventini, che c'è le fazioni, chi più allegri, chi più allegri, invece qui dobbiamo rimanere tutti sulla stessa barca, solo per i colori rossoneri, solo per la cimila, vergognosi, sarete complici, sarete complici, ma senti, ma qualche maiala attraversiamo la strada, qualche maiala, no, eh, partiera, poi comunque ragazzi, dai, concentriamoci, che vedo, per il calciomercato è inutile che ve la siete presa, già lo si sapeva molto in anticipo che aria tirava a Milanello, a casa Milan e non c'è da stupirsi, spero che tutto il cuore che entri in un'altra società, un'altra punta di diamante, per i nostri colori, che possa investire, non dico chissà come, ma il giusto, invece che questi taccagni, questi pezzetti, oh bravo, eh, vedi, mi sto regolando, e niente, non c'è più parole, non c'è più parole, non ci rimane che sperare in un harakiri, di quelle davanti, che tutto può succedere, ma è difficilissimo, che vi devo dire, abbiamo buttato nel cesso per mantenere in panchina quel soggetto lì, e non fare un mercato adeguato, in senso, il campionato, poi è anche vero che tutto potrà succedere, come appena detto, e niente ragazzi, cose che dice lui, sono preoccupato di questo, e che io vorrei conti, o qualunque sia, o che porti comunque delle novità, di moduli, di idee calcisti, di ideologia, e che dia più, garra, dia più grinta, alla squadra, che dia più, che le faccia diventare dei maiali assatanati, perché il campo dobbiamo essere maiali assatanati, che sto contenendo, o pazzi, e niente, tutto, eccetera, 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 e poi magari votati, chi più meglio, io, o lui, io sono quello meglio, più affascinante, più cazzino, più attraente, più convincente, più estroso, fatemelo sapere, eh, ciao fratellaccio, ciao, 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 하 mani, se non lo scendevo, che ottavo più, ciao,